23 anni dopo la fine dei lavori e soprattutto l'apertura di un centro per la salute mentale, ci sono davvero tutti per festeggiare il giorno della vittoria dello Stato. Oggi l'ex villa modello Scarface di Valterino Schiavone diventa un centro per la salute mentale, quella casa bunker dove viveva da ipocondriaco con la pistola in una mano e la macchinetta sanitaria che misura i battiti cardiaci nell'altra. Oggi lo scacco matto dello Stato al clan della Camorra dell'area casertana, ma il tempo passato è forse anche troppo, come spiega il procuratore capo nazionale dell'antimafia Franco Roberti. I beni sottratte alle mafie sono una risorsa, debbono essere una risorsa, una risorsa per tutti, un'occasione di crescita, di occupazione, di opportunità per i giovani, come sta incominciando a essere in qualche caso. Questa da oggi è la casa della liberazione, spiega il sindaco di Casal di Principe Renato Natale. Andare avanti senza troppo guardarsi intorno e senza troppo farsi bloccare dai vicendi di questo tipo. Sono vicendi stupide, sono vicendi di criminali stupidi che non hanno capito niente e continueranno a non capire nulla. Un bene che restituisce dignità al popolo di Casal di Principe, come spiega il governatore della campagna, Vincenzo De Luca, che ha annunciato il finanziamento di 13 milioni di euro e l'apertura di un centro di compostaggio ai reggi lagni di Casal di Principe. È importante dal punto di vista simbolico, si passa da un luogo simbolo della violenza, della sopraffazione, a un luogo nel quale si alimentano i valori di solidarietà e i servizi sociosanitari.